Sindaco Soldano, oggi una giornata importante per il Comune di Pieve di Soligo, ma quando e come nasce l'idea di questo percorso verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2021? Beh, è un'occasione per tutto il territorio, non solo per Pieve di Soligo. Nasce alcuni mesi fa quando avevamo visto la disponibilità di Treviso a candidarsi e quindi anche noi abbiamo pensato di fare la nostra parte nel 2021. Treviso non ha potuto candidarsi, abbiamo deciso a quel punto di dare comunque seguito al lavoro già iniziato, all'idea di creare e di mettere a disposizione della nazione intera un programma per l'anno 2021 che tenga conto di importanti circostanze, di importanti anniversari che si preannunciano. Adesso sarete tutti impegnati nell'elaborazione del dossier, lo zocolo duro, rimane la cultura, sappiamo Capitale Italiana della Cultura, ma questo è un territorio che offre tantissimo. Sì, è una declinazione della cultura perché il bando parla di cultura della cooperazione, quindi a maggior ragione ci sentiamo di poter dire come territorio di dire qualcosa di importante sulla base di quello che è stata la storia, di quelle che sono le idee che attraverso le amministrazioni stiamo raccogliendo. È un tempo corto, però il nostro è un territorio che è composto anche da persone che in poco tempo riescono a fare grandi cose, quindi sicuramente ce la faremo. È impegnativo ma il 2 marzo consegneremo questo dossier. Con Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Diocesano Beato Tognolo, qui oggi per la candidatura di Pieve di Soligo a Capitale Italiana della Cultura 2021. Quando si parla di cultura, Pieve di Soligo è sempre in prima linea. Pieve di Soligo ha dono e ha responsabilità, nel senso che ha un parterre di vite illustri, ma anche un concetto molto largo e dinamico di cultura, nel senso che qui la cultura ispira proprio questi personaggi importanti, questi personaggi famosi di dimensione nazionale e internazionale, ma c'è una cultura che crea, penso, tutta la dinamica del lavoro, dell'impresa, della cooperazione, dell'agroalimentare, cioè un settore di grande homo faber, ma c'è anche una cultura che dona e qui c'è tutto l'aspetto legato all'arte, alla bellezza, al turismo di qualità, ma anche alla solidarietà, al volontariato insieme all'eccellenza no gastronomica. Come a dire? Pieve di Soligo, certamente non da sola, perché è cuore, un esco di marca, è al centro di una dinamica di territorio e vuole essere in questo caso offrire un contributo a tutta la comunità. Per questa candidatura sarà indispensabile la sinergia fra istituzioni, fra associazioni, quante realtà sono impegnate per questo progetto? Le stiamo definendo, le stiamo contattando, devo dire che c'è un'ottima risposta e quindi in tempi brevi, assolutamente brevi, daremo vita al comitato e a una serie di raccordi proprio sinergici con istituzioni, associazioni e realtà economiche, sociali e culturali del nostro territorio. Con il consigliere regionale, presidente della Sesta Commissione Cultura del Consiglio della Regione Veneto, Alberto Villanova, questa sarà la candidatura non solo di Pieve di Soligo ma di tutto il territorio, potremmo dire è la nostra candidatura? Questa deve essere la candidatura di tutto il territorio, perché Pieve farà da capofila, ma diciamo che per avere le speranze, soprattutto per unire tutto il territorio, è indispensabile abbattere i muri che dividono ancora certe volte le nostre comunità, fare in modo che sia un lavoro condiviso tra tutti, che possa portare dei benefici per tutto il territorio che adesso viene rappresentato dal marchio UNESCO. È una grande sfida, ma sicuramente puntando ad alzare la sticella dal punto di vista dell'offerta culturale del territorio riusciremo a raggiungere grandi traguardi per tutti. Io come rappresentante della provincia, intanto porto i saluti anche del presidente Marcon che è impegnato altrove, però diciamo parlandone siamo orgogliosi di questa candidatura perché potrebbe essere, se veramente capiterà questa occasione, un valore aggiunto nel nostro territorio che merita veramente essere visto non solo qua, ma anche già conosciuto, però visto anche in tutta Italia in un'altra maniera, in modo culturale che magari noi traspuriamo un po' questo settore. Siamo certi che abbiamo le qualità, le persone, i personaggi di qualità, ma anche gli eventi di qualità per poter affrontare bene questo percorso. Speriamo possa andare tutto a finire nel migliore di modi. In ogni caso già il percorso stesso sarà utile per far crescere la nostra consapevolezza di quello che abbiamo in mano. I produttori del Conegliano Valdobbiadene sicuramente daranno il proprio contributo perché la cultura di questo territorio è anche frutto del saper fare enologia e viticoltura grazie alla prima scuola enologica in Italia che è quella di Conegliano. Quindi una cultura a 360 gradi di tutte le professioni e le arti del territorio stesso. Credo che questa candidatura rappresenti per il nostro territorio che è diventato appunto patrimonio UNESCO un momento importante per cominciare a capire che siamo un mosaico fatto di tante tessere con tante caratteristiche diverse che però messe assieme possono dare un disegno complessivo e organico assolutamente interessante che faccia conoscere al di fuori dei nostri confini la bellezza, la ricchezza, la storia di questo territorio.